Nessuno vuole il caffè Non vi preoccupate Adesso possiamo continuare Questo è stato veramente molto simpatico Facciamoci un applauso Una persona veramente molto Nel senso spontaneo Vai Chi è che ha parlato? Serve per la musica? Serve per la musica? No Serve per lavorare? Serve per lavorare Non serve per lavorare No, no, non serve per lavorare Però bisogna dire che è utile Cioè se non ci starebbe Se non ci stesse Se non ci fosse Se non esisterebbe Se non ci fosse questa cosa Io avrei dei grandi problemi Come tu tutto il resto del mondo Sì Oddio c'è chi non le usa C'è chi non le usa No, mi dici la forma Io ti posso rispondere solo sì e no Tu mi dici la forma Ma io ti rispondo sì e no Dici la forma Dici la forma Sferica È quadrata, sferica? Non è quadrata È sferica, è quadrata Non è sferica, è quadrata Non è sferica Non è che si indossa Cioè può averla chiunque può avere Sempre deve essere maggiore Si porta Non è che si indossa Si porta Si porta Si porta Si porta Si porta a presso Già ho detto un grande è più Non è un accendio Non è preso in fatica Lo volevo mettere Però è meglio che lo consenti Dove si riscalda Non si rimbora Per me è la raddente nuova Non è la raddente nuova Non è la raddente La tessera di che aspetto La tessera sanitaria no No Il codice fiscale no No La carta di identità Non l'avete detto Sì la torre Prenotazione lui no 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 C'è lui Prenotazione Carta di identità C'è lui Bancomat Che è Bancomat? Carta di credito Non è il cattivo Il banco Chi l'ha L'ha dominato L'ha obbligato Quindi è il Di chi Di chi È me È me È me Tanto lui disse Notero Odino Bancomat No Ah no Notero Facciamo un applauso Al mio Bancomat Applausi E a meno 20 No non vi preoccupate Grazie Tutti il mio caffè